Dobbiamo mettere i piedi in terra, perché comunque è presto per avere una satisfazione nel primo posto. C'è qualcosa che dobbiamo fare di più, perché comunque manca tanto e ci fa godere questa settimana. Però comunque dobbiamo lavorare ancora tanto. Dobbiamo gestire tutti i risultati, poi siamo una squadra matura, giocatori professionalisti, che dobbiamo sapere di gestire questa buona stagione, anche quando capita di una brutta stagione. Grazie a Dio che si sta lavorando bene, stiamo facendo le cose bene. E' una gioia essere a Sin Man, perché comunque è la prima volta che mi capita e sono felice per quello. Però, come ho detto prima, piedi sulla terra e a lavorare, perché manca tanto. Siamo molto amici, siamo molto vicini, loro mi dicevano che erano molto contenti, anch'io, perché comunque fare un'assi si sente ancora meglio che fare il gol. Siamo tranquilli, ovviamente è una partita importante, perché è un spettacolo molto bello che sarà nello stadio, perché è il derby che da tanto tempo che non si vede, però siamo tranquilli. Una partita come le altre, che dobbiamo assumere con personalità, atteggiamento, non cambia niente. Secondo me posso ancora crescere, perché comunque stiamo lavorando per quello, tutti i giorni lavoriamo per quello, e giorno tra giorno riesco di fare il meglio, anche in allenamenti, nelle partite. E poi è quello che capita nelle partite, perché sempre vogliamo fare di più, sempre vogliamo fare il meglio per la squadra e spero di crescere ancora tanto. È un mister che ti fa giocare la palla, che ti fa giocare bene, che ti fa avere un stile di gioco. E quindi penso che ci vede nelle partite che il Bari, sia qua in casa che fuori casa, fa vedere il suo bel gioco. Io sono a disposizione del mister, comunque non importa dove mi mette, devo fare il mio lavoro, devo fare bene la partita, comunque se pure mi mette il terzino, se ho fatto il terzino sinistro, il terzino destro, penso che farò il meglio di me, per me e per la squadra. Poi, come mi sento io, penso che è uguale, perché comunque non cambia niente per me, sono due posizioni diverse, però che alla fine sono uguali. I tifosi del Bari sono importanti, perché loro hanno quella spinta che ci aiuta tanto a fare le partite, e poi penso che il calcio senza tifosi non sarebbe niente, quindi sarà bellissimo vedere lo stadio pieno. Non lo so se vengono o no, non lo so, però sarebbe bello se ci trovano qua, perché comunque è la bellezza del derby. Qui c'è un gruppo, c'è una famiglia, si vede che siamo insieme, che vogliamo un stesso obiettivo, e che tutto quello che si lavora, tutto quello che si fa, si pensa alla squadra, non individualmente. Alla Provercelli abbiamo fatto una bella partita, era quasi vinta, e poi all'ultimo minuto capita che ci fanno gol, ci abbiamo risentito molto, era un sapore amaro, poi contro Salerno penso che si poteva vincere, perché abbiamo fatto una bella partita, e da lì si sentiva che questa vittoria arrivava. Poi meno male che abbiamo vinto contro il Novara, perché ci serve psicologicamente tanto, perché sapevamo che potevamo vincere fuori casa, e poi penso che dopo questa, e spero che vengano tanti. In questo momento del campionato si devono sentire, perché comunque la classifica è molto stretta, perché se perdi una partita puoi andare anche a ottavo posto, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere concentrati a stare sempre sul pezzo.